Ci troviamo a Parma presso l'impianto di termovalorizzazione denominato VTE Pai Parma di proprietà di IREN Ambiente del gruppo IREN. L'impianto ha il compito di bruciare rifiuti prima accuratamente selezionati. Il vapore prodotto dalla combustione viene utilizzato per produrre energia elettrica attraverso la turbina e per produrre calore per la rete del teleriscaldamento. L'idraulica Fratelli Sala ogni giorno svolge qui un'attività di manutenzione di tipo meccanico ed elettrico. Il nostro scopo è quello di mantenere costante l'efficienza dell'impianto in tutte le sue caratteristiche. L'idraulica Fratelli Sala, soluzioni per l'industria e i servizi. L'idraulica Fratelli Sala, soluzioni per l'impianto in tutte le sue caratteristiche.